Abbiamo vissuto più di tre mesi insieme ed è stato molto difficile, nonostante non si possa credere perché facciamo un programma televisivo e quindi in questo programma televisivo deve essere sempre tutto bello. E se siamo riusciti a fare questo è per merito di queste 200 persone, che non sono solo dei grandi professionisti, dei numeri uno, ma ho scoperto anche veramente delle gran belle persone. E io veramente da Celeste Laudisio, che è il capo progetto qui in Honduras, una risorsa preziosa della televisione italiana, al produttore Popi Alvera, veramente il numero uno, Stefano Martinelli, autore col quale ho condiviso questa esperienza, da loro a Samir, che è il nostro barista, i ragazzi qua lo conoscono, saluto veramente tutti, veramente di cuore. Grazie per avermi permesso di fare il mio lavoro. Saluto e ringrazio Mediaset, ringrazio Banigiai, un bacio speciale a Graziella che ha permesso che questa magia accadesse, ringrazio Vladimir che con la sua ironia spesso ha riportato tutto al centro, ringrazio Nicola che attraverso la sua preziosa ironia che hanno riuscito a vivere questa avventura insieme. E Ilari che ti devo dire? A te che ti devo dire? Ti voglio bene, ti voglio bene, aveva ragione Francesco, sei unica, ma meno male che sei unica Ilari, immaginati con quattro Ilari, sarei finito, sarei finito. Io vi ringrazio veramente, grazie Italia.